Profumi, vestiario, ma anche scarpe e pelletteria sono oggetti sempre più preda di furti nei negozi. Che si tratti di spaccate notturne o pezzi presi un po' alla volta, comunque spariscono e vanno, probabilmente, a finire in quello che viene chiamato mercato nero. In piazza Insurrezione, a Padova, le volanti hanno intercettato un'auto sulla quale un uomo dell'ex Jugoslavia stava caricando svariati profumi rubati poco prima all'interno di coin. La polizia di Padova ha arrestato un cittadino serbo per furto aggravato e un tunisino per spaccio di droga, denunciando altre sette persone per furto aggravato e ricettazione. La squadra mobile, a seguito di alcune segnalazioni di residenti e di un lungo pedinamento, ha sorpreso una banda di quattro rumeni, alcuni pluri pregiudicati da altri appena giunti in Italia, che con un furgone stipavano prodotti rubati in un garage di via Colombina, dove avevano creato un magazzino di marce rubata e di provenienza illecita. Sono stati ritrovati centinaia di pacchetti di sigarette di contrabbando, vestiario, confezioni di pasta, olio e altri generi alimentari, oltre a svariate biciclette di marca. Sono in corso accertamenti sulla provenienza della refurtiva.